Impreza City incontra Enrico Proserpio, direttore pre-vendita della Business Unit Technology di Oracle Italia. Oracle 12c è il database di nuova generazione di Oracle. 5 anni di sviluppo e 500 nuove funzionalità. Vediamo le principali. Ci sono tante funzionalità nel database 12c, la più importante fondamentalmente è quella del multi tenant database e oltre a questa ce ne sono diverse per esempio che vanno a ricadere nell'ambito della gestione ottimizzata dello storage, nell'ambito della sicurezza, nell'ambito del disaster recovery con funzionalità sincrone per non perdere dati e una serie di altre funzionalità che sono veramente tante. Queste sono le principali che mi sento di mettere in luce in questa chiacchierata. Enfatizziamo il concetto del multi tenant introdotto dal database. Il multi tenant è un concetto molto importante perché è fondamentalmente il concetto della virtualizzazione applicato al database. È il concetto per cui io posso avere un unico cosiddetto contenitore, quindi un'unica istanza di Oracle in cui posso andare a inserire tanti database diversi. Fino ad oggi, fino alle release precedenti, un'istanza voleva dire un database, quindi ogni database aveva la sua istanza da gestire, da amministrare, eccetera. Oggi ho un'unica istanza su cui posso mettere tanti database diversi contemporaneamente. Questo mi permette di avere un notevole risparmio di utilizzo delle risorse infrastrutturali sottostante perché ho meno processi, meno memoria da allocare, eccetera. Quindi abbiamo visto da nostri studi che dove oggi io riesco ad arrivare al massimo su una certa infrastruttura a mettere assieme 50 database, con il multi tenant posso arrivare fino a più di 250. Quindi grande utilizzo delle risorse, quindi maggiore possibilità di consolidamento che vuol dire maggiore risparmio per i nostri clienti. E soprattutto tutto questo con una grande semplicità di utilizzo. Io gestisco un oggetto solo e automaticamente se devo fare dei backup, faccio il backup di un oggetto solo, se devo fare il patching, devo cambiare release, eccetera, lo faccio sempre per un oggetto solo e automaticamente lo sto facendo per tutti i cosiddetti pluggable database che io posso inserire al suo interno. Quindi grande capacità di consolidamento con una elevata semplicità di gestione. Tutte le operazioni le faccio una volta solo e automaticamente sono di fatto disponibili per tutti gli oggetti, tutti i database che stanno all'interno di questo sistema. Abbiamo dei clienti che quando hanno visto questa funzionalità hanno deciso di, addirittura in anteprima, hanno deciso di aspettarla, perché era per loro l'utilizzo ideale di funzionalità di virtualizzazione all'interno di un database. Quindi invece di andare su meccanismi tradizionali di virtualizzazione del sistema operativo, se io devo consolidare database è meglio andare, i nostri clienti ci dicono che preferiscono andare su questo tipo di funzionalità che non a caso abbiamo introdotto proprio perché ce l'hanno chiesto i nostri clienti tempo fa. Invece quali le funzionalità storage introdotte? Dunque, le funzionalità storage c'è una funzionalità molto importante che mi permette fondamentalmente di gestire automaticamente il livello di compressione dei dati a cura del database, cioè invece di essere io che decido di spostare i miei dati su storage a costi diversi, quindi a performance e costi diversi a seconda di quanto questi dati vengano acceduti, se siano acceduti frequentemente o meno frequentemente, questo lo posso far fare automaticamente al database, così come gli posso dire di comprimere più o meno un dato a seconda proprio dell'utilizzo. La cosa importante è che il database da solo si rende conto di quali siano i dati più utilizzati e meno utilizzati e in base a questa informazione riesce ad applicare delle policy tali per cui appunto può comprimere più o meno un dato, può spostarlo su uno storage che costa di meno, eccetera, a seconda che il dato magari non debba essere utilizzato frequentemente, debba essere un dato archiviato per cui non vale la pena di utilizzare uno storage ad alte performance e ad alto costo per un dato che viene utilizzato poche volte dal sistema fondamentalmente. Grazie. Grazie a lei.